E' stato convocato per il 23 ottobre alle ore 17 presso la scuola Daniele Zoccola il Consiglio Comunale di Ponte Cagnano-Faiano. All'ordine del giorno, le linee programmatiche del sindaco, il bilancio consolidato 2017, la ratifica della variazione di bilancio, la modifica al piano triennale delle opere pubbliche e la nuova classificazione dell'edificio ex asilo Maria Pia di Savoia.